Allora, un attimo che vi spiego. Facciamo le caramelle mu. Avete presenti le classiche caramelle, quelle scioglievoli, avvolgenti, quelle che tendono un po' ad appiccicarsi al palato e quando siete lì, cioè, vi dà un fastidio l'idea di averle appiccicate al palato, allora cominciate a morderle, questo sapore avvolgente comincia a prendervi proprio, diventate pazzi ed è una dietro l'altra. Ecco, noi le facciamo in casa queste caramelle qua con quattro ingredienti soli. Saranno veramente molto fattibili ragazzi, ne fate un sacco a costo praticamente zero. Io direi che possiamo partire in quinta stavolta, in quinta perché facciamo anche, diciamo, in fretta. In una pentola versiamo la panna fresca. Un po' sgrumosa ma vabbè, è panna fresca questa qua. Miele millefiori. Se avete paura che il miele si senta troppo, vi consiglio allora di usare, se volete un alimento comune, il miele di acacia, che è molto più delicato rispetto al miele millefiori. Quindi, attenzione però, l'ingrediente giusto da utilizzare per le caramelle mousse sarebbe lo sciroppo di glucosio. Ovvio però che lo sciroppo di glucosio è un pochino più difficile da trovare. Non potete neanche sostituirlo con lo zucchero perché ha un'altra composizione. Vi consiglio di usare il miele perché ci somiglia molto di più. Se però il miele non vi piace, vi dà fastidio, andate alla ricerca dello sciroppo di glucosio. Lo trovate comunque nei negozi specializzati di pasticceria sicuramente. Anzi, cambio la frase. Potreste anche sostituire lo sciroppo di glucosio o il miele con lo zucchero. Però la consistenza sarà diversa. Fate voi. Secondo me così è più buona, però fate voi. Incido. Prendiamo la vaniglia. Aggiungerei anche un leggero pizzico di sale. Non serve tanto, ma vedrete che farà la differenza. E adesso possiamo portare tutto sul fuoco perché deve raggiungere il bollore. Fiamma media, eh? Ecco, vedete che sta cominciando a bollire, eh? Adesso seguitemi. Prendiamo lo zucchero. Adesso io utilizzo il cucchiaio di legno perché superati i 100 gradi sono più sicuro nell'utilizzare materiali che anche se è molto caldo il composto non c'è il rischio che vadano parti chimiche all'interno del composto. Vedrete che anche col cucchiaio di legno si andrà alla grande. Allora è successo un casino. Sono nel soggiorno di casa con una coperta sulle spalle. Guardate quanto sono professionale. Mi si sono cancellati dei video trasferendoli dal telefono al computer. Per fortuna non tanti perché bisogna dirlo. Mi è andata anche bene, però non sto neanche qua a raccontarvi tutto l'aneddoto perché l'ho già fatto nelle Instagram stories. Non voglio appesantire troppo, però io mi chiedo ma gli imprevisti, una vita, se la possono fare invece che dar fastidio agli altri? Dovrò raccontarvi alcune parti che per fortuna sono le parti anche più semplici così dal soggiorno in modo dettagliato e raccontato senza avere delle immagini sotto, delle clip che vi fanno vedere bene il procedimento. Spero di fare un buon lavoro e che sia chiaro a tutti. Arrivate alla temperatura con il termometro di 122 gradi. Ovviamente continuando a mescolare voi tenete d'occhio la temperatura. Se non avete l'apposito termometro, insomma, voi per capire bene la temperatura giusta, basterà prendere un cucchiaio di questa salsa fatta, metterla su una carta forno e lasciarla raffreddare. Se si stacca dalla carta forno ma non è troppo dura, è ancora leggermente plastica, vuol dire che la temperatura è quella giusta e dovrete spegnere, mi raccomando. Guardate come si sta gonfiando. Mi raccomando che qua bisogna essere precisi. Adesso mi si è spento anche. Continuate a mescolare perché è importante che la cottura risulti omogenea. Poi cosa dovrete fare? Prendere la vostra salsa, ovviamente spegnete la fiamma quando avete raggiunto la temperatura giusta. La versate su un foglio grande di carta forno oppure anche in una teglia e lasciate un po' intiepidire. Adesso avrete delle clip che vi fanno vedere almeno un pochettino cosa dovete fare. Perdonatemi ancora. Un po' si è raffreddato e anche addensato. Adesso indossiamo dei guanti lattice perché dovremo lavorare il composto quando è ancora un po' caldo. Dovrete dare una forma regolare alla vostra pasta. Quindi se avete messo il composto in una teglia probabilmente avete già una forma regolare. Io vi consiglio per queste dosi di utilizzare una teglia non tanto grande. Fate un 20x20, un 25x25 al massimo insomma per avere comunque un buon spessore. Se invece avete scelto l'opzione carta forno come nel mio caso basterà semplicemente fare tipo delle pieghe, dare una forma rettangolare anche con il mattarello. Perché con il mattarello riuscite, cioè magari fate, non so, la cavallate un pochettino la pasta. Con il mattarello la stendete in modo rettangolare o quadrato e cominciate a tagliarla. In teoria dovremmo esserci, le parti spiegate le avremo finite mi sembra sì perché qua davanti il computer è tutto sotto controllo per fortuna almeno una volta. Dimenticavo perché ovviamente anche sulle dimenticanze io non sono ecco così inesperto. Fatelo ovviamente un po' raffreddare adesso il composto perché prima quando era tiepido lo dovete lavorare che è malleabile. Poi lo fate raffreddare quasi del tutto. Vi faccio vedere la consistenza che deve avere quando è ora di tagliarlo. Adesso vedete tutto, basta, ciao. Coltello pulito possiamo ricavare i nostri bastoncini. Vi faccio vedere bene la consistenza. Guardate, malleabile ancora un po', però comunque se la appoggiate vedete che si è spaccata. Deve essere dura. Ora è il momento giusto. Guardate che meraviglia. Ma non saranno super precise come quelle comprate, ma ragazzi il fatto in casa a me piace, a me piace il fatto in casa proprio per questo. Ah giusto, ovviamente il colore dipenderà anche dal miele, nel senso che se voi addirittura mettete il glucosio sarà molto più chiaro. Avete presente, è vero come le ho descritte nella intro del video? Ridirei la stessa cosa, quindi evito. Ultimissima cosa, direttamente dal soggiorno di casa. Angelo, ciao. Ti saluto, me ne hai chiesto un sacco di volte, mi sono sempre dimenticato. Adesso ti saluto, cavolo sì. Ovviamente mi stavo dimenticando anche in questo video, mi è venuto in mente adesso nel fare queste parti registrate. Mi sento un po' come i me contro te, adesso ma va bene così. Per la conservazione io direi, temperatura ambiente, luogo asciutto, comunque non umido mi raccomando. E magari se volete fare una cosa più sofisticata potreste prendere della carta forno, insomma non è proprio sofisticatissima, però è pratica e carina. Oppure anche, non lo so, una carta diversa dalla carta forno se volete fare una figura superiore. Saranno anche un'ottima idea regalo, anche per Natale, no invece dei soliti biscotti. Caramelle mu si conservano anche per più tempo e non hanno nulla da invidiare ai biscotti. Ci vediamo su Instagram per le stories, tutti i contenuti di intrattenimento così più immediati. Vi lascio qua altri due, aspetta qua, scusatemi perché devo fare l'incontrario perché ho la telecamera così. Qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campagna delle notifiche, rimandete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta. Grazie come sempre per aver visto il video, noi ci vediamo al prossimo. Sì, insomma, non su questo aspetto.